L'AMSI è nata nel 2000, la prima associazione che ho contributo a fondare con parecchi amici medici di origine straniera. L'AMSI ha tre finalità importanti, assistere ai medici e operatori sanitari, fare corsi di aggiornamento professionali per tutti i medici e operatori sanitari italiani di origine straniera. Abbiamo ambulatori AMSI per stranieri dove offriamo servizio ai pazienti in difficoltà linguistica e lì è stato un laboratorio molto importante di statistica, di analisi del fenomeno della sanità e migrazioni e una collaborazione valida con i colleghi italiani ospedalieri tra loro e i medici nostri di origine straniera. L'altro punto importante è la cooperazione internazionale. Vanno divisi in due categorie, gli immigrati sono i cittadini di origine straniera regolarmente iscritti al servizio sanitario nazionale con il permesso di soggiorno che regolarmente sono sereni e si comportano come cittadini italiani regolarmente e quando hanno bisogno del medico di famiglia vanno dal medico di famiglia, hanno bisogno dello specialista, scelgono come tutti o in privato o presso l'ospitaliero. Invece noi la necessità di aprire ambulatori era per aiutare chi è in difficoltà, chi è senza permesso di soggiorno, chi ha paura di andare presso i servizi sanitari nazionali, che viene giudicato, tra parentesi qualcuno lo chiamava in passato, per fortuna non lo è più, è clandestino perché il permesso di soggiorno è scaduto. Per questa categoria è fondamentale incoraggiarli a venire a curarsi presso le strutture accreditate, riconosciute, per non finire in posti o in ambulatori clandestini che non garantisce un servizio medico qualificato o riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano.